A parte piano Tone Rosè Chiù, che poi sbaglia, macchina che se ne va con Olympia Warning, Malibu e Mezzettino dell'Est. Numero 4, Ombra del Rio squalificato. Per la conquista della posizione, sbaglia Ombra del Rio e finisce squalificata. Due grossi protagonisti in errore, già in fase di partenza con Olympia Warning in vantaggio con all'esterno Lino dell'Est. Ha ripiegato Malibu e Mezzettino davanti al 3 di Lezioso. Questi i primi quattro, poi più indietro Nerudegreppi, Oceano e Kappa. Cavalli che vengono davanti le tribune per il passaggio. Lino dell'Est rimasto all'esterno per il momento si adegua fra Olympia Warning e Malibu e Mezzetta. Poi in quarta posizione, terzo lunghi paletti, il 3 di Lezioso. Precede Nerudegreppi, Oceano e Kappa e Ottone Rosè Chiù, che viene da un errore. Squalificato Ombra del Rio. Cavalli che vanno a completare gli 800 metri iniziali. In 59 e 8, Olympia Warning glida sulla coppia Malibu-Nilo dell'Est. Poi il 3 di Lezioso, l'8 di Nerudegreppi, Oceano e Kappa. Quindi Ottone Rosè Chiù. chilometro in 14,9, c'è l'avanzata dal fondo di Oceano e Kappa, anticipato costantemente da Nerudegreppi che allarga. Con maggior decisione su Olympia Warning, i 3 in lotta, avanti al 5 di Malibu-MZ, il 6 di Nilo dell'Est che sta arretrando. Metà della piegata conclusiva. Olympian, Nerudegreppi, Oceano e Kappa. Questi primi tre avanti a Malibu-MZ. Bella la lotta fra i primi tre. Con Nilo in quinta posizione, addirittura entra per prima Olympia Warning. Nerudegreppi sferra l'attacco, così come Oceano e Kappa. Arrivo molto molto incerto, a centro vista Oceano e Kappa. Sembra poter prendere la meglio. Nel finale Oceano e Kappa, facile, avanti a Nerudegreppi e Olympia Warning. Al quarto posto finisce il 5 di Malibu-MZ, davanti al 3 di Lezioso. Ora rivediamo lo slow. Anche il tempo a chilometro, però 13-9, strepitosa prestazione di Nerudegreppi che regala bella vittoria a Nicola Del Rosso, che vedete qui. Olympia ne è battuta, scusate, a Renato Legati. Quindi bella vittoria di Oceano e Kappa, non Nerudegreppi, davanti a Nerudegreppi e al 2 di Olympia Warning. 1-8-2 i primi tre sul traguardo, 1-8-2-5-3 i primi 5, 1-13-9 per Oceano e Kappa, che come dicevo regala bella vittoria a Renato Legati, il tre di Paolo Leoni, coloro della scuderia Indal. E con il primo piano di Oceano e Kappa, per il momento da Villanova ad Albenga, è tutto.